Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! e degli stessi sviluppatori di Mutant Year Zero infatti le basi sono per meno quelle andiamo a vedere che abbiamo praticamente tutto impostato a ultra quindi direi che possiamo anche cominciare non tocco nient'altro, il gioco è in italiano, sottotitolato ovviamente andiamo a iniziarlo e possiamo scegliere la difficoltà noi ovviamente optiamo per la migliore è un gioco con combattimenti a turni con due possibilità di modalità di gioco la tattica leggera con il fiancheggiamento del nemico che ci assicura il colpo e le cooperative danno gli stessi bonus indipendentemente dalla distanza mentre la tattica completa è meno prevedibile e le probabilità di colpire sono drasticamente ridotte sia per me che per i nemici facciamo quella e facciamoci del male dato che tutte le volte che porto uno strategico finisce malissimo allora, il tipo di movimento mi ricorda appunto molto Mutantia Zero perché appunto ci si muove liberamente fino al momento in cui non inizia un combattimento abbiamo questa ambientazione un po' sullo stile steampunk cronistorie 1 da qualche parte nel Kentucky 140 anni dopo il crollo della grande stabilità è un universo a sé e vediamolo si parla di Miasma qua una minaccia globale ovviamente si chiama Miasma Chronicles posso farcela ma qua si chiama Mr. Wars in realtà ricorda l'allestamento tienila dritta tienila allo stesso livello non muovere troppo la mano eh Diggs ho capito davvero si rompe sopra i 100 quanto legge le mie onde cerebrali quanto ha tutto male celebrali però mi ha rifuso può capitare stai vienentrando ok stiamo cercando di contenere questa minaccia appunto in un'ambientazione e con un personaggio principale che mi ricorda tantissimo questa borsa tiene la mente sgombra fratellino ce la stiamo facendo riesco a vedere dall'altra parte ci ha spento con l'estintore quel guanto del cavolo è andato maledizione quanti tentativi abbiamo fatto 37 è meglio mettersi al lavoro sul trentottesimo e pensi che il trentotto sia diverso la mamma mi ha dato questo guanto per un motivo finché si trova dall'altra parte ok devo raggiungerla dall'altra parte va bene va bene graficamente è molto carino mi ricordo molto un altro gioco che ho provato che era sullo stile dei souls like ma non mi ricordo il nome mannaggia ok praticamente ci si muove come ci si muoveva se non ricordo male in mutantia zero quindi si va avanti si esplora il mondo si corre e possiamo shiftare da col tasto tab da un personaggio all'altro col tasto i abbiamo la schermata dello zaino dove possiamo vedere tutto l'inventario condiviso e gli oggetti consumabili abbiamo i costumi consumabili oggetti missione che ora non sono accessibili abbiamo le armi abbiamo praticamente un dk 170 entrambi la squadra che è composta da noi possiamo capire il mazzo delle abilità ok mazzo abilità che attualmente non abbiamo e che possiamo sviluppare con spenendo i punti quindi abbiamo capacità ps2 kv insomma ok la mappa muro di miasma sedentaria ok il codice è il codex classico con la spiegazione la storia di ogni personaggio fratellone fido protettore complice di elvis forza 10 uomini ok e qua le missioni che possiamo fare la base è questa ma quello che vedremo in questo gameplay ah rivelatore impulsi per poter recuperare qualche oggettino infatti plastica ok fondamentalmente la base del gioco dicevo è questa e incapperemo poi in un combattimento gioco di cui comunque da quanto visto si parla anche piuttosto bene e ci si poteva anche muovere adesso non vedo come ci si poteva muovere anche in modo furtivo però in questo caso dobbiamo andare qui indaghiamo e quanto vibra come se volesse che mi avvicinassi e se sta noticci vicino a qualcosa ti rivolta come un calzino adesso torniamo ok ci salverà lui no ce ne andiamo noi che siamo tornati nella modalità dove si cammina vediamo un po' rileviamo se ci sono altri oggettini da da lottare là in fondo c'è qualcosa qui plastica ah possiamo anche nasconditi ok beh adesso ok abbiamo risolto il problema del nascondersi perfetto la barriera è ancora attiva non possiamo passare da qui e quindi bisogna andare di qua no di qua o di là o c'è qualcosa da disattivare no è evidente che non si può passare da boh andiamo indietro diamo un'occhiata media in giro nasconditi no c'è sempre questo nasconditi no non si può passare neanche di qua diamo un'occhiata ai dirigiti verso casa si torniamo a casa per ripararlo ma non si può tornare a casa quindi siamo bloccati però qua non c'è niente non si può andare da nessuna parte ci siamo già stati no dobbiamo tornare di là perché ci dice qualcosa di là quindi ci sarà qualcosa di interagibile che non abbiamo visto o che devo prendere lui e lui può fare qualcosa probabilmente è così no no ok capito mi indica mi indica la via praticamente di là si va adesso ok ottimo perché questa parte è piuttosto guidata si fa tutto il giro ok ho visto non riesco a crederci cosa sono rane rane che camminano su due gambe e ammazzano la gente l'altro c'erano i maiali mi pare su mutanti a zero tematica è simile qui da la famiglia trovo questa coppia abbastanza indovinata il bottone mi sta già simpatico iniziamo il combattimento ok il combattimento è a turni all'inizio di ogni turno ricevi due punti azione per ciascun eroe che sono questi due quadrati qua ok tecnicamente possiamo sparare al nemico possiamo ricaricare o possiamo muoverci io sparo 15% 93% ho uno o l'altro io sparo questo è come il vecchio titolo come XCOM in generale il nostro omino qui spara anche lui facendo un buon danno è fiancheggiato ma ora ci fiancheggia anche lui bellino bellissima la la freccia che è andata addosso senza effetti alla marvel ma con la freccia che si conficca direttamente di fronte ottimo veramente molto bello copertura sparo comunque potreste avere fortuna fortuna non mi ha mai amato particolarmente no allora i nemici sono se i nemici sono in copertura parziale è per l'anità di 35 se i nemici sono in copertura totale 75 sono efficaci solo davanti ok quindi qua praticamente abbiamo il 33% di colpirlo ma se io mi spostassi tipo qui e non mi lascio muovermi posso fare cambio arma e basta quindi io sparo eh sì non mi lascio muovere quindi non c'è modo devo sparare per forza ok uno è andato volevo affiancarlo ti è ripenuto F per andare avanti veloce vabbè lui si sta spostando sta cercando di fiancheggiarci ma è improbabile che mi prenda infatti uno sinistra ma è dietro una copertura totale quindi fiancheggiamo quel bastardo muoviti di lato o dietro una copertura fiancheggiare ti da ok esatto è quello che ho già volevo fare prima i fucili da cecchino hanno una maggiore probabilità di colpire a lungo raggio mentre i fucili d'assalto a corto ok le probabilità di successo dei fucili a pompa non è influenzato dalla distanza ma mi rimbalzo anche ok adesso mi posso muovere se io mi muovessi qui ma no muoviti la casella evidenziata vabbè intanto muoviamo il visuale qua no mi dice di muovermi qui quindi non è che posso andare dove voglio qui devo andare però qui posso sparare quindi clicco lo sparo e gli sparo 82% direi che siamo andati molto bene combattimento nulla di nuovo soddisfacente devo dire ma soprattutto perché mi sembra che il punto di vista narrativo sia abbastanza trasportante insomma come si dice fiancheggia lì ok si combatte ancora girino ricognitore ok dobbiamo fiancheggiarli usa la copertura per evitare il fuoco nemico l'altra squadra valgono le stesse ok sì allora dobbiamo muoverci fiancheggiandoli quindi ci muoviamo qui e poi gli sparo poi portata sì io sparo 70 e se volessi sparare all'altro vabbè usiamo la nostra seconda puntuazione ha fatto un bel po' di danno lui potrebbe spostarsi qua pure lui vediamo se sparando può colpire qualcuno 28% dai mi sento fortunato sì infatti vedete che li abbiamo tutti e due da potergli sparare ma vabbè vediamo dai mi sento fortunato no adesso subiremo l'attacco il doppio attacco nemico e ci fiancheggiano ha preso Dix ok questo il prossimo lo fiancheggiamo per bene ok allora tocca a lui lui ha vediamo un po' no cosa ho fatto ho fatto muovi eh vabbè 18% spara no ripeto bello bello la modalità allora se io sparo mi colpisco lui 70 27% se voglio sparare all'altro eh vabbè io sparo lui mannaggia siamo malissimi qua ci sta fiancheggiando l'ho mollato lì in mezzo sono un pierla ok allora lui si può muovere quindi lui si muoverà qui e gli spara vediamo se può non ci sono versari disponibili niente lo faccio rimuovere e lo faccio mettere qua lui invece qui potrebbe colpirlo col 60% qua lo colpisce al 99% quindi lo faccio sparare perfetto è perfetto è un cavolo non è morto però lui potrebbe fare questa no si è mosso soltanto bene speriamo sopravviva ok il bottone spara e lo uccide doppia ok punti azione ripristinati ok perché l'ha ucciso quindi tecnicamente potrebbe tornare indietro ottima bellina questa mossa perché ha finito ha recuperato un punto vediamo se riesco a sparargli si viene di si spara 56% di colpirlo ci sta ok ottimo ok si continua vedete torna la visuale con il mouse e ci muoviamo verso sedentaria che è la città che era riportata prima sulla mappa che abbiamo visto usciamo dall'aria si va al prossimo luogo e poi si andrà a rinfoltire il nostro parco di armi armature abilità con i punti con le salite di livello e anche la nostra squadra quindi andremo a modificarla il gioco è fatto tutt'altro che male anzi ha una buona narrativa graficamente bello ha tante comunque cutscene dialoghi sembra avere del carattere e segue la falsa riga di mutanti a zero cioè il fatto di mutazioni il fatto di nemici animali trasformati insomma non è originale ma perché copia se stesso praticamente si sta trasformando tutta la nazione in un tempio non andate ne asserano quindi non andate ne asserano entrate se sei sicuri questo monotone non è un riso insediamento minerale che ho vissuto per tutta la vita china la testa lavora duramente fornisce loro che alimenti i regnanti dell'America la prima famiglia e prega che la rabbia del miasma non spazi via la città dalle mappe del mondo nessuno qui abbastanza coraggio per vincere le paure e dare forma al proprio destino tranne te Elvis insieme a tuo fratello Diggs e dopo anni di duro lavoro ora controlli il potere del guanto e vuoi trovare me ma non sai ancora cosa sia in realtà vero? potrei dirtelo ma le rivelazioni vanno guadagnate quindi rimarrà un segreto forse in futuro sarei abbastanza fatta da superare il muro e trovarmi cosa che non sei riuscito a fare prima e se lo farai ti racconterò il mio segreto ma sappiamo entrambi che morirai prima perché tra me e te c'è il miasma bellino miasma cranico bene 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 molto bene ora siamo in città e abbiamo superato quello che è una sorta di mini tutorial iniziale in realtà il tutorial è continuo perché ci deve ancora spiegare diverse cose però diciamo che una di queste indicazioni qua sotto dice dobbiamo parlare al sindaco di questi mostri e rana ovviamente sarà una zona sicura quindi siamo arrivati a sedentaria vediamo la mappa siamo a sedentaria abbiamo la missione mostri veri ma ci sono poi tutte le altre missioni e poi le altre location che andranno a sbloccarsi nel corso dell'avventura quello che non so dirvi è se la mappa sia questa ma anche altre a occhio direi di sì perché c'è tutta l'america non so dire ecco dicevo la durata la durata dell'avventura quello purtroppo non ve la so dire perché sono all'inizio come avete visto graficamente ripeto bello ecco abbiamo il sindaco a cui parlare e questa è la città la città dove potremo andare a dialogare e commerciare cioè questo si è andata a cantare town hall bellino e poi partono queste cutscene da gioco tutt'altro che strategico interessante è il sindaco è il sindaco è fumanzico collegato al sistema respiratorio ma pensate mi stiamo dicendo che ci sono i mostri fuori dalla città uno del corpo ok hanno ucciso la famiglia guarda hanno ucciso quasi noi tantissimi mi stanno nella città di fare qualcosa ok vediamo saltando perché non voglio spoilerare abbiamo la missione ok missione iniziata ok possiamo andare a vedere che cosa dobbiamo fare fai visita a Bertha dovremmo riparare il guanto di miasma Bertha Junior avrà quasi sicuramente il nucleo energetico funzionante quindi si va praticamente a da questa Bertha là in fondo per riparare Bertha guns in ammo bellino e qua come vi dicevo ci sono la possibilità di no jammer solo un posto quindi ho saltato la missione trova un jammer ok bisogna andare a trovare un jammer e un jammer io non ho la minima idea di dove si trovi quindi bisogna andare a cercarlo in giro diamo un'occhiata anche qua cosa c'è indaga localizza localizza l'obiettivo perché qua si può esplorare c'è lo sceriffo ci sono varie cose ok sindaco ci sono i dialoghi devo chiamarlo sceriffo gli parlo dei mostri rana vabbè niente di fatto non voglio poi spogliarare ulteriormente perché ovviamente non è un wasteland quindi un gioco di ruolo puro ci sono gli elementi di codex che ampliano il background del gioco la storia la lore come si dice ma non è un gioco di ruolo è un combattimento turni allora abbiamo ah qua abbiamo un luogo non esplorato quindi bisogna andare là le location guardando la mappa mi fa pensare che sono veramente tante e riusciamo anche a medesimarci bene nella situazione perché vediamo proprio tutto il disagio viaggiamo verso il prossimo luogo e vediamo che cosa troviamo perché si aprirà la prossima location di gioco la prima è l'unica che vedremo in questo video insomma sono curioso vediamo un po' trovo un jammer terra degli allegatori e siamo arrivati qui se ne sono aperte altre quindi vedete che è bella bella grande naviga diminuisce zoom ok si è interessante siamo in florida quasi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo miasma chronicles non servevi il prezzo non servevi nulla perché sto giocando il giorno prima dell'uscita proprio ho aspettato anche la scadenza embargo per avere l'ultima patch sembra essere davvero molto 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 intrigante ma non vedo l'ora di sapere il vostro parere qua sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao